Trovo una posizione comoda e comincia a rilassarti, rilassati dolcemente e lasciati andare al suono delle mie parole e comodamente rilassati, concediti questa pausa, questo silenzio, questa pace e lasciati andare profondamente, porta la tua attenzione al respiro e vi inspira lentamente attraverso le tue narici, molto lentamente e fai fluire l'aria molto lentamente, percependola in tutto il tuo corpo, delicatamente, visualizza una luce bianca che entra delicatamente attraverso le tue narici, rendendo il tuo corpo luminoso, ora comincia a rilassare ogni parte del tuo corpo, rilassa il tuo capo, le tue guance, le tue labbra e i tuoi occhi che sentirai sempre più pesanti e ti lascerai andare sempre più in profondità, sempre più in profondità. rilassa ora il tuo collo, tutti i muscoli del tuo collo e molto lentamente, molto lentamente, rilassa le tue spalle, molto lentamente e sentile scendere lentamente, poi porta la tua attenzione nel torace e rilassalo, sentilo sempre più rilassato, fai così con il tuo addome, rilassalo sempre di più, lo sentirai sempre più rilassato e che accompagna il fluire del tuo respiro, rilassa ora le tue braccia sempre di più, fino ad arrivare ai tuoi gomiti e così giù, fino ad arrivare alla punta delle dita delle tue mani, che sentirai sempre più rilassate, sempre più rilassate. Porta ora la tua attenzione nel bacino, sentilo immerso di luce e rilassalo sempre di più, senti il tuo bacino sempre più rilassato e così scendi sempre più in profondità, rilassando le tue gambe fino alle ginocchia e lentamente, molto lentamente, comincia a rilassare le tue gambe, fino ad aggiungere i tuoi piedi e dalle punte delle tue dita e senti il tuo corpo sempre più rilassato, sempre più rilassato, sempre più rilassato. Porta ora la tua attenzione alla ghiandola pineale e comincia a percepirne la presenza, comincia a respirare attraverso essa. Ogni giorno sempre più noti in te un cambiamento ed entri sempre più in uno stato di consapevolezza in cui riesci a percepire la sincronicità. Ora mi rivolgo alla parte più profonda di te, al tuo inconscio e mi rivolgo direttamente alla tua ghiandola pineale, chi è lì, chi aspetta di essere attivata. Ed ora, ghiandola pineale, attivati. per chi ha il consenso, respira giorno per giorno l'attivazione e stabilizza in te ogni giorno sempre più la possibilità di sintonizzarti con la parte biologica ed interdimensionale, ghiandola pineale. Ora cominci a respirare una nuova energia, perché ora sei attiva e trasformi giorno per giorno la biologia del corpo a cui appartieni, attivando gli strati del DNA, gli strati interdimensionali, permettendo una sempre maggiore connessione con il Sé superiore. Ghiandola pineale, comincia giorno per giorno a far riconoscere i segnali che provengono da ogni dove e permetti di riconoscere la sincronicità ed apri sempre più la porta ai talenti iscritti nel DNA. Ora mi rivolgo alla parte più profonda di te, al tuo inconscio e chiedo che tu ora sussurri attraverso le tue labbra le mie parole. Chiedo l'intervento dell'energia e dell'amore dell'arcangelo Metatron e di tutto il mondo celeste riunito intorno a me, per attivare la mia ghiandola pineale, da ora, per sempre e per l'eternità, nel nome della vittoria. Da ora, per sempre e per l'eternità, nel nome della vittoria. Si viene a perfezionare giorno per giorno sempre più un sistema automatico di riconoscimento dove cominci a percepire in ogni oggetto un significato, a percepirne l'essenza e a riconoscere in ogni oggetto, in ogni persona, il riflesso di te stessa. Ora comincerò a contare a ritroso, da dieci e tu riprenderai un normale stato di veglia e ti sentirai felice e ti scoprirai ogni giorno sempre più felice. Ogni giorno sempre di più, e gioirai riconoscendo un perfetto equilibrio nel tuo corpo, perché ogni tua cellula comincia a danzare l'amore per la vita, ritrovando l'equilibrio perfetto. 10 10 9 8 7 6 5 4 3 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 14 15 Grazie per la visione!